Signor Presidente, il Presidente Meloni in più occasioni per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino ha detto che lei scommette sulla vittoria dell'Ucraina. L'abbiamo invitata a consigliare che questa scommessa è disastrosa, che non si scommette sulla pelle della popolazione ucraina. Abbiamo sempre invitato a consigliare come ragionevole questa strategia basata su un escalation militare. Siamo rimasti soli ma oggi non ci interessa dire che ve l'avevamo detto, non ci interessa rivendicare anche con spirito di rivasta quella che è stata l'agogna a cui siamo stati sottoposti. Oggi interessa una via d'uscita. È la verità, Presidente Meloni, che non ci porta una soluzione ancora quest'oggi. Non c'è una via d'uscita. Abbiamo chiesto che l'Italia fosse il capofila per quanto riguarda un percorso di pace e sicurezza. Non c'è nessuna attività in questa direzione da parte di questo Governo. Attenzione, qualche elemento di speranza. C'era venuta dalla famosa conversazione telefonica con due attori comici. Ne ha parlato la Meloni, la ha liquidato con una battuta. Ma lì c'è un elemento interessante, lo dico a tutta la maggioranza. Aveva parlato di un'idea ai due comici che avrebbe tirato fuori al momento giusto. Ma questa idea, Presidente Meloni, ce l'ha o no? Quando la tira fuori, quante altre morti, quante altre danni alle nostre economie dobbiamo aspettare per questa soluzione? Vista la gelosia con la quale la custodisce, deve essere un'idea geniale. Avrà pensato già a una campagna per promuoverla? La stessa che ha utilizzato per promuovere l'Expo di Roma che ha fruttato solo 17 voti lungo tutto il globo terracchio? La verità è una sola. La verità è che l'unica idea che il Governo ha tirato fuori, ce l'ha detta qualche giorno fa, il Ministro Crosetto, quando ha detto che è in preparazione l'ottavo pacchetto di aiuti militari. Ecco, sempre la solita idea. Seguire sempre pedisseguamente, senza fiatare, Stati Uniti e Nato. Occorre coraggio, occorre coraggio, lo stesso che non abbiamo visto per quanto riguarda anche il conflitto israelo-palestinese. Guardate, la Presidente Meloni è molto abile. L'altra volta venuta alla Camera ci ha parlato a lungo del conflitto, anche questa volta gira intorno alla questione cruciale. La questione cruciale oggi è che i bombardamenti a Gaza, rispetto a questi bombardamenti, è un male necessario e inevitabile la morte di tutti questi palestinesi sotto queste bombe? Abbiamo ben 18.000 morti civili palestinesi, i superstiti hanno difficoltà a mangiare, a dissetarsi, ad assumere, a trovare medicine. Ma nella rassegna stampa alla Presidente Meloni, le mettete il Washington Post con l'inchiesta sulle bombe al fosforo bianco utilizzate da Estrele sui civili? E di fronte a questo ci sono dei leader europei che hanno chiesto al Presidente Michel di dedicare un'intera sessione specifica sulla questione Gaza. Voi che cosa dite? Quale posizione assumete? Il Presidente Meloni rappresenta l'Italia con i valori costituzionali. Deve dire basta a queste mani. Tragedia umanitaria. Abbiamo anche delle questioni dei dossier economici, di cui si discuterà al prossimo Consiglio europeo. Dopo ben due manovre di lacrime e sangue fatte da questo Governo, che ovviamente prevedono taglie e tasse per i cittadini, e in favore a banche e imprese energetiche, la situazione è drammatica per le prospettive del nostro Paese. Stiamo tornando alla chetichella e vincoli di bilancio che rischiano di essere peggiori di quelli già sperimentati in passato. E che cosa sta negoziando? Qual è la posizione? Non ancora l'abbiamo capita. Più viene in Parlamento e più non si capisce qual è la posizione specifica di questo Governo. L'unica cosa che abbiamo capito è che c'è un margine di flessibilità su cui state negoziando fino al 2027. Poca roba e pochi spiccioli. Però attenzione, guardate un po' il 2027 e la scadenza naturale di questo Governo. Quindi Ameloni sta negoziando con il suo Governo questa un margine di flessibilità, peraltro ridotto. E chi verrà dopo di voi? Che ne sarà? Troverà l'Italia col cappio al collo e il futuro delle generazioni ipotecato. Guardate che noi abbiamo negoziato con forza, coraggio e umiltà e abbiamo portato 209 miliardi, li abbiamo lasciati a chi è venuto dopo. Voi che cosa farete invece? Che dire, per quanto riguarda, io ho sentito un Presidente del Consiglio che ha cercato di esporre in modo pagato, ragionato nella prima sessione. In sede di replica ho ascoltato un leader di opposizione, non un Presidente del Consiglio. E ancora una volta, con cosciutaggine e ostinazione pertinace parla di bonus edilizi. Ma io dico ci vuole una faccia tosta. Ma mezzo Governo ha usato i bonus edilizi, compreso lei Presidente Meloni. Ma è possibile che se li usate voi vanno bene e gli italiani non li devono usare? Come funziona la vostra politica? Presidente Meloni, ma vi parlate nel Governo? Mi tocca ancora una volta fare nome e cognomi. Si parla, Presidente Meloni, con Lollobrigi, Raffazzolari, Rampelli, Mollicone. Hanno presentato tutti gli emendamenti per l'estensione del bonus nel corso degli anni. Con forza Italia! Vi parlate o no? E adesso c'è un argomento che suona comico, il MES. Non so perché la Presidente Meloni, quando parla di MES, ve la ricordate già durante la pandemia, diventa tutta paonazza, scomposta, si agita. Ma l'azza sarà perché forse uno si cerca di interrogare e dare una spiegazione. Ma forse perché il MES è stato introdotto in Italia attraverso un disegno di legge, approvato nell'agosto 2011, Governo Berlusconi 4, Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, Ministri della Russa, Futto, lei se lo ricorda, Calderone, eravate sempre gli stessi! E come si permette di venire a dire che abbiamo fatto qualcosa non in modo trasparente? Ma perché non andate almeno a rileggere gli atti parlamentari? Presidente Meloni, vado a rileggere la risoluzione del dicembre 2020. C'è tutto scritto, un mandato parlamentare chiaro, alla luce del sole. La logica a pacchetto, come ho sempre detto, ogni volta, ogni Consiglio europeo, a tutti i miei colleghi, per quanto riguarda me, allora vi dico subito che lo approveremo la ratifica solo se avremo completato tutto il pacchetto. L'abbiamo lasciato ai posteri. Ora io quello che non capisco è, Presidente Meloni, lei è Presidente del Consiglio, la ratifica ancora da venire, la deciderei con le vostre maggioranza di che cosa ha paura, ci faccia sapere la prova o non la prova. Non ci giri intorno, non è più tempo di scaricare sugli altri, assumetevi le responsabilità. concludo, concludo. Guardate che la credibilità del Governo dipende dalla coerenza e la coerenza dipende dalle azioni, ma anche dalle omissioni. Delle volte le omissioni sono più gravi. È per questo che reitero l'appello al Presidente Meloni ad adottare provvedimenti per i ministri, i sottosegretari che si sono macchiati di aver violato l'olore e disciplina della Costituzione. Parlo di Santanchè, del Mastro, Sgarbi, perché vedete e concludo, qui non è una questione di partito, le questioni del partito, Presidente Meloni, lei se le regola come vuole. Adesso c'è anche Natale, vi riunite in famiglia con sua sorella e suo cognato e decidete. Però, attenzione, per gli incarichi di partito lei, Presidente Meloni, risponde ai suoi militanti e ai suoi attivisti. Per gli incarichi di Governo lei ha il dovere di rispondere all'Italia intera e l'Italia intera è stanca di assistere a questo spettacolo di degrado istituzionale sotto i nostri occhi. Per questo motivo votiamo felicemente e determinatamente contro. Grazie, onorevole.